ciao ciao amici benvenuti e bentornati qua sul mio canale sono il carletto sempre qui a regalarvi una delle mie recensioni folli se non l'avete fatta ancora mi raccomando iscrivetevi a sto benedetto canale dopo aver visto king 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 andiamo a vedere la sua fidanzatina ma io direi la sua fidanzatona super maggiorata perché se voi avete visto i sette peccati capitali la fidanzatina fidanzatona di king era diane la gigantessa e potevamo non prenderla in versione gigante ragazzi andiamola andiamola a scartare lei è ovvio che andava presa in versione xl ragazzi stupenda 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 già packaging bellissimo vi dico che dalle immagini guardatevi tutto il box vediamo se ve lo riesco a inquadrare bene dalle immagini sembra veramente eccezionale come colori come disegno come tutto veramente bella 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 e fatta apposta da tenere affiancata in versione xl come vedevamo nell'anime lei gigante perché lei era una gigantessa allora andiamola ad unboxare vediamola bene nel dettaglio anche se queste figure così giganti imponenti dobbiamo vederla a volte un po a pezzi perché è un casino da mettere sotto la lente di ingrandimento comunque andiamo ad unboxare lei già il packaging mi piace mi piace bella 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 fatta secondo me benissimo andiamola a vedere eccoci qua eccoci qua allora vediamo solita basetta anche in versione xl di sta pop up che è l'unica cosa che a me non mi fa impazzire perché proprio semplice semplice potevano almeno almeno dico sempre così mettere il logo dell'anime vedete perché è proprio semplice semplice vediamo qua se c'è scritto qualcosa si c'è scritto qualcosa in giappo ma queste basette potevano farle di certo meglio adesso partiamo a vedere la gigantessa dalla cosa che mi piace di più che il viso guardate mamma mia però qua mi ha accolto un attimo incredibile abbiamo fatto un seno ancora più maggiorato di come era già nell'anime parte di scherzi vediamo bene il dettaglio guardate come sono lucenti gli occhi come ha fatto bene comunque tutta la parte della testa che non si vedono gli agganci delle varie parti vedete andiamo a fargli il giro proprio completo vediamo la capigliatura guardate che bella ragazzi tante sfumature dei capelli non si vedono gli agganci da un pezzo all'altro questa cosa per una figura così grande è notevole guardate che bella che è bellissima proprio secondo me fatta pari pari all'anime maggiorata ancora di più andiamo a vedere guardiamo il corpo veramente bello guardate che belli i colori guardate anche la parte delle gambe che non si vedono gli attacchi e gli hanno fatto delle ciapette strepitose che qua in camera non si vedono però guardate come anche di profilo è fatta bene questa diane veramente bellissima secondo vai qua ha lavorato bene guardate il dettaglio anche della parte così ragazzi del guanto le mani andiamo se date gli hanno fatto bene anche le unghie le mani lavorata devo vedere sull'altra mano vedete lavorata benissimo fatta veramente bene andiamo sulla parte delle gambe guardate il suo tatuaggio che è da questa parte qua fatto molto 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 bene guardate le sfumature di colore i piegamenti del ginocchio e guardate anche gli stivali come sono fatti bene non ha una sola sbavatura è lavorata veramente benissimo anche perché comunque essendo così in grande in versione xl costicchia parecchio ragazzi per essere una figure costicchia veramente parecchio però devo dire la verità ragazzi è veramente veramente bella guardatela così che bella che è mi ha convinto mi è piaciuta l'ha fatta proprio secondo me benissimo dai su queste figure però stati che non si può vedere molto quindi vediamo a girare a fianco al suo amato a king ragazzi guardate come sta bene a fianco al suo king lei ovviamente è in scala con l'anime perché chi ha visto l'anime sa che diane è una gigantessa è una dei sette peccati capitali spettacolare qua avuto pop up una bellissima idea di farla in grandezza xl in grandezza come nell'anime da gigantessa ovvio esiste anche per chi non ha possibilità poi un po' economica un po' di esporla una versione più piccola che però secondo me non c'entra niente perché lei è una gigantessa lei nell'anime l'abbiamo vista praticamente quasi sempre gigante e quindi va va presa assolutamente così e vi garantisco che con gli altri peccati capitali adesso ne mancano soltanto se non sbaglio merlin poi chi è che manca comunque ne manca escanor ne mancano anche comunque sono imminenti all'uscita tre ne dovrebbero mancare comunque andiamo a completare poi vi farò vedere tutta la collezione completa di tutti e sette peccati capitali bellissima idea andiamo a zoomare adesso taglieremo un po king ma andiamo a fare un mezzo busto su di lei più o meno anzi andiamo a ravvicinarci per farvi vedere tutto comunque anche le forme del corpo dei glutei guardate che belle le ciappette fatte così bene la colorazione il fatto che non si vedano i punti di giunzione delle varie parti della figura anche essendo così grande mi fa dire che veramente pop up a red in questa versione xl della nostra diane ha fatto veramente secondo me un grandissimo un grandissimo lavoro infatti lei costicchia purtroppo costicchia ma c'è veramente dietro un bellissimo lavoro poi comunque sia è una statua imponente perché siamo sui 40 centimetri forse anche di più quindi è veramente una bellissima figure che va a completare uno scenario quando poi tutti sette peccati capitali saranno al completo veramente fantastico per chi come me ha seguito questa serie a me anche se una delle ultime serie molto nuova a me è piaciuta veramente parecchio la potete vedere anche su netflix ragazzi veramente bella serie che mi ha coinvolto mi è piaciuta veramente bella dai io direi che diane l'abbiamo vista più che bene se siete amanti dell'anima avete la possibilità ovviamente prendete questa versione xl perché è veramente notevole lì rispetto la versione base ma invece se non avete la possibilità avete anche problemi di spazio comunque la versione anche base piccolina che ho visto è bella è bella anche quella ovviamente non è scenicamente come questa qua dai andiamo a concludere ragazzi questa diane mi ha colpito è fatta veramente bene i colori sono belli impeccabili le sfumature sono altrettanto fatte bene il dettaglio anche questo è fatto veramente bene e nel complesso la rendono ragazzi una figura veramente veramente bella mi è piaciuta mi è piaciuta ovviamente costicchia un pochettino quindi per chi non ha la possibilità è fatta bene anche la versione base che più o meno è un pelino più grande vedete del nostro king però se vogliamo proprio avere la gigantessa che abbiamo visto per quasi tutte le serie del nostro anime dei sette peccati capitali in vetrina e scenicamente e per chi ha visto la serie lei è il top è veramente veramente fatta bene che dire se vi è piaciuta la recensione mi raccomando pollice on alzato mi raccomando mettete questi like scrivete nei commenti quello che dico sempre se vorreste vedere qualcosa cosa ne pensate di questa Diane un po' tutto così chiacchieriamo e vi do anche dei consigli e se non l'avete fatto ancora iscrivetevi al canale che dire vi saluto e vado in estasi anche lì cia pet